Anche quest'anno in arrivo il Natale puntualmente e con lui gli appuntamenti naturalmente musicali, culturali. L'orchestra Audimus quest'anno ha deciso di fare due concerti, esattamente sabato 16 e domenica 17 dicembre. Sabato 16 a San Quirino di Pordenone all'auditorium Centro Magredi e invece la domenica a Udine presso il padiglione numero 1 dell'ospedale civile Santa Maria della Misericordia. Il concerto di sabato a San Quirino di Pordenone si svolge la sera, mentre quello di domenica in ospedale si svolge alle 5 del pomeriggio. In particolare quest'ultimo concerto è stato da noi pensato come naturalmente un modo di portare in un luogo particolare in cui convive la sofferenza e la speranza, naturalmente la vita e la morte possiamo dire, portare il messaggio della musica, il messaggio universale della musica che aiuta a parlare, a toccare le corde più intime dell'uomo. E ci è sembrato che proprio in questo luogo un gesto del genere potesse essere adattissimo in un periodo poi come l'Avvento e particolarmente apprezzato sia naturalmente da chi lavora o si trova in ospedale sia da chi potesse e volesse intervenire dall'esterno. L'orchestra eseguirà due pezzi del grande repertorio, la Sinfonia numero 5 di Schubert e l'Idilio di Siegfriedo di Wagner, preceduti da un breve andante per flauto e orchestra di Mozart che fungerà da overture con la nostra flautista Sara Klanzig. Vi invitiamo a partecipare, i concerti sono sempre gratuiti, ad ingresso libero, senza necessità di prenotazione del posto, anche se l'orchestra Udimus da molto tempo offre la possibilità a pochi che si prenotino di sedersi dentro all'orchestra. La famosa iniziativa una sedia dentro l'orchestra vuol dire assistere al concerto non seduti in platea ma seduti in mezzo ai musicisti dell'orchestra. Per poter aderire a questa iniziativa e per informazioni relative ad essa dovete scrivere una e-mail a me che è il cui indirizzo è gioia-francesco-lalibero.it. È una bella esperienza che vi consigliamo di fare perché si ha un punto di vista veramente inaspettato per i non addetti ai lavori. Ricordiamo anche che comunque tutti i nostri concerti vengono trasmessi live in streaming dal canale YouTube di Francesco Gioia, il mio canale YouTube. Comunque vi aspettiamo numerosi perché la musica dal vivo è assolutamente non equiparabile all'esperienza della musica ascoltata sui supporti e poi naturalmente perché desideriamo poter suonare davanti a voi pubblico che più volte ci avete dimostrato di apprezzare il nostro lavoro. Quindi vi aspettiamo 16-17 dicembre a Sanguirino di Pordenone o all'ospedale civile di Udine per il nostro concerto dell'Avvento. Non mancate!